Ancora sangue sulle strade della costiera amalfitana. La tragedia all'ennesima si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 4 dicembre. Massimo De Rosa, 35 anni di Praiano, era in sela al suo scooter e intorno alle 13 stava percorrendo la strada statale 163 amalfitana, tra i comuni di Praiano e Positano, in compagnia del fratello Luca, quando si è scontrato con una moto che viaggiava in direzione apposta che ha provocato la caduta rovinosa delle quattro persone in sella, due per parte. Ad avere la peggio, il 35enne. Le sue condizioni sono risultate immediatamente gravissime. Bani i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Positano per i rilevi del caso e le ambulanze per la cura degli altri tre feriti. L'altra moto, quella incriminata, era una Ducati ed era guidata da un 53enne di Pellezzano, risultato poi positivo alla Cannabis. Il trasportato era un amico del conducente, un tunisino residente a Taranto. I due viaggiavano in direzione Positano. I carabinieri della compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelo Antonio, chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente, hanno informato il magistrato di turno che ha disposto il prelevo del sangue della vittima per accertamenti tossicologici, risultati negativi. Massimo era sposato con Manuela e insieme avevano una figlia di quattro anni. Da circa un anno lavorava in una famosa trattoria della zona. Secondo una testimonianza, ovviamente da accertare, l'ambulanza sarebbe giunta sul posto dell'incidente dopo ben 30 minuti. La denuncia arriva da un residente della zona che è assistito all'accaduto. L'uomo prova a raccontare attraverso i canali social il caos in cui regna oggi il 118, incapace, soprattutto per mancanza di mezzi a disposizione, di rispondere in tempi rapidi alle emergenze. Una tragedia quella di Massimo che porta ancora sotto i riflettori la difficile e complessa situazione della viabilità della costiera.